Ho trovato una bellissima città, sa per me ogni città d'Italia dopo così tanto tempo anche rimanendo fuori è una bella esperienza. Io ero già venuto a Torre Annunziata due o tre volte, ho trovato una bella città ma soprattutto una bellissima accoglienza. Io ho scoperto il Savoia Calcio quando sono tornato in Italia quando sono arrivato a Napoli la dirigenza nel 2003 mi nominò socio onorario e quando ho visto c'è una squadra di calcio che si chiama Savoia, che bello, poi non hanno neanche cambiato il nome dopo il 46 quando tante cose dopo il 46, tanti nomi sono spariti da piazze o da diverse cose e da quel momento ho sempre guardato con molto affetto il Savoia Calcio. Penso che anche questo sia un messaggio importante, io voglio anche rivolgermi soprattutto ai giovani perché il progetto del Savoia Calcio non è solo prendere una squadra e provarla di farla ripartire ma vorremmo costituire un'accademia sportiva per i giovani, provare a togliere i giovani dalla strada e portarli verso uno sport nobile che è il calcio. Diciamo che non mi piace parlare di slogan ma la parola che mi viene è diamo un calcio alla malavita con quello che stiamo facendo.